Poi! Salvatore Di Maio, Minakia Games, categoria Skelet, BOD 1, CrossFit, FDB e L-Box. La gara l'hai detto qual è? Minakia Games. Bravissimo. Ok. Ora, quando lui è pronto, scaccia 3 secondi, capito? Quando vuoi? Vado, puoi tenere pure in mano la corda. Hai 3 secondi. 2, 1, vai! Oh! Ho con Oh! Ho! Sofia! Ho! Ho! Buu! Da una! Stacca le mani! Ok! Uno! Prenditi! Prenditi i poteri! Prenditi i poteri! Prenditi i poteri! Cos'è? Prenditi i poteri! Prenditi i poteri! Prenditi i poteri! Si! Prenditi! Prenditi i poteri! Guarda il volto! Sette... Vai! Guarda il volto! Prenditi i poteri! Quindi per la standard! Sopra! Uno! Amato! Due! Troppo più su! Quattro! Cinque! Sette! Ok! Prenditi i poteri! Uno! Due! Trai! 5 6 6 5 6 6 8 9 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 18 19 20 20 22 23 24 25 25 26 26 27 25 26 25 27 27 28 28 29 29 30 Siamo 3,35 4,5, 6 Stai Quattro Noi Pagli è molto forte Ma come va il tempo? Quanto siamo? 4 e 31 4 e 31 Ottimo dai Vai 1 2 3 4 5 5 6 6 Questa è quinto né? Guarda il power getter 1 2 3 3 4 5 6 5 6 5 Ok 5 5 6 5 5 6 7 8 8 9 9 10 5 5 6 6 6 Quanto manca? Vai 15 secondi Anche 10 10 secondi vai 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 Un minuto Vai Vai, 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 ora Vai Vai Vai, spin 30 secondi Vai ora, gli ultimi secondi sono Vai Vai Dai, spingi forte con le gambe Vai 2 secondi, dai, gli ultimi che riesci a fare Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, un altro, un altro Finito Allora 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 Quanti a fare? Devo matare Aspetta, no, vedi prima il carico e anche la parola medica il carico Allora 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 Ancora Allora Ancora registra volendo Se vuoi dire qualcosa la puoi Giovanni Giovanni Giovanni, ora tocca a te Che ne pensi? Allora 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 Allora